Tutto ciò che ti stanno insegnando su come costruire ricchezza e andare in pensione un domani con bitcoin è totalmente sbagliato. Tutti i video su youtube, blog, articoli, podcast, tutto quanto. Questo perché tutti utilizzano lo stesso framework della finanza tradizionale applicata a bitcoin. Ma bitcoin è un qualcosa di diverso, un qualcosa di nuovo. E ciò che funzionava non funziona oggi necessariamente con bitcoin. Ora, le persone che ti insegnano questi concetti non lo fanno con cattive intenzioni, ma semplicemente non hanno compreso come funziona il sistema monetario, in quale sistema economico ci troviamo, come funziona il denaro. Ed è per questo che nel video di oggi ti mostrerò l'esatta strategia che i ricchi utilizzano da decenni per ottenere flussi di cassa costanti a partire dai propri asset e in particolare come può essere anche adattato a bitcoin. In questo modo si potrà creare un flusso di cassa costante da bitcoin, esentasse, sì, hai capito bene, totalmente tax free, non importa quanto aumenteranno le tasse, questo modello gioca su un qualcosa che ci permette di evitare le tasse senza dover vendere i tuoi asset, ed ecco perché eviterai le tasse, e che ti permette di creare ricchezza generazionale che quindi andrà avanti negli anni. Ti mostrerò anche tutti i calcoli dietro tutto ciò. Ti darò uno strumento che potrai utilizzare per backtestare la tua strategia e proiettarla nel futuro. Ora nel caso in cui ti stessi chiedendo perché dovresti ascoltarmi, chi sono io perché magari sei appena arrivato per la prima volta su questo canale, vado a presentarmi brevemente. Mi chiamo Stefano De Masi e ho creato questo canale con il preciso obiettivo di prendere argomenti finanziari complessi e renderli semplici e fruibili per tutti. Argomenti come gli investimenti e come bitcoin per esempio. Investo sui mercati da oltre sette anni, quindi credimi quando ti dico che le ho viste veramente di tutti i colori e continuo a vederne e sentirle di tutti i colori. Ovunque io vada però mi vengono sempre fatte due domande in particolari e sono le due domande che approfondiremo proprio in questo video e daremo risposta spero una volta e per tutte. La prima molto semplice, classica. Stemma mi conviene comprare bitcoin adesso o no? E ho già fatto un video, te lo lascio qua sotto, in cui ho risposto nel dettaglio a questa domanda. La seconda però è Stemma ora che bitcoin ha raggiunto questi livelli mi conviene venderlo per prendere profitto? Ed io do sempre la stessa risposta. Non hai capito il gioco che stiamo giocando. Ma prima di spiegarti che cosa intendo esattamente con questa affermazione voglio dirti una cosa. La maggior parte di persone là fuori si chiede costantemente se il denaro che stanno mettendo da parte sarà sufficiente un domani. E probabilmente te lo sarei chiesto anche tu come me lo sono anche chiesto io in passato. Cioè tutti stanno sperando che i risparmi accumulati in una vita di lavoro e sacrifici siano sufficienti per vivere fino al giorno della propria morte. Hanno tutti paura, abbiamo tutti paura che i soldi finiscano prima. Quindi rimanere senza nulla. E questo perché tutti giocano nella stessa matrix. Vai a scuola, trova un lavoro, spendi il giusto, almeno idealmente, la maggior parte di persone si spera spende il giusto, non cerca di spendere più di quello che ha e metti da parte il resto dei soldi sperando che un giorno bastino. Ma cosa succede se l'inflazione, che ne so, aumentasse? Cosa che sicuramente succederà. E ammesso che anche tutte queste persone riescano a farcela, riescano a sopravvivere all'aumento dell'inflazione per esempio riescano effettivamente a campare fino al giorno della propria morte con ciò che hanno fatto, col frutto dei propri sacrifici? Beh, a questo punto la domanda è quanto rimarrà ai loro figli? Il motivo per cui dico alle persone che mi pongono questa domanda che ti ho appena detto, cioè se mi conviene vendere bitcoin adesso o no o comprarlo e così via, il motivo della mia risposta non hai capito il gioco? È molto semplice. Il problema è che l'obiettivo della maggior parte di persone non è risparmiare tutta la vita sperando che un giorno i soldi bastino. Non è andare in pensione con ciò che ho fatto, con i frutti della mia vita, del mio lavoro e tutto quello che vogliamo. Si dovrebbe investire per accumulare beni, per accumulare asset. Questo è l'obiettivo finale del gioco, l'obiettivo vero del gioco. Acquistare il maggior numero di beni durevoli, possibilmente scarsi, e continuare, continuare, continuare ad aggiungerli ogni giorno in portafoglio, piuttosto che scambiarli in contanti cioè in carta straccia. Cioè il gioco che la maggior parte di persone sta giocando là fuori è un gioco di investo, così aumento la quantità di denaro in mio possesso e sono contento. Ma è sbagliato, come ho detto. Perché tu aumenteresti la quantità di carta che hai in mano se sai che quella carta si brucia, se sai che qualcuno là fuori stampa costantemente tutti i giorni e svaluta quello che tu stai guadagnando. Cioè te ti sembra una cosa sensata a lavorare, di continuo investire con l'obiettivo di accumulare ancora più denaro che tanto qualcuno svaluta e che quindi i tuoi sacrifici, il tuo lavoro, il tuo studio che ti ha generato quel denaro va in fumo. Va letteralmente in fumo. Il gioco è passare dal punto di vista opposto. Cioè non investire con l'obiettivo di avere più carta straccia, di avere più soldi. Io investo perché poi farò il gain quando venderò e otterrò profitti. No, il gioco è investire con l'obiettivo di accumulare beni. Io devo accumulare risorse, asset e questo che fa la differenza. Tu pensi veramente che i Carnegie, che i Rockefeller, tutta sta gente qui, credi che loro siano interessati veramente al denaro o a utilizzare il denaro in leva per acquisire aziende? Oro. Chissà, bitcoin. O qualsiasi altro tipo di asset che siano terreni, che siano immobili, qualsiasi cosa. Loro puntano a questo, puntano ad avere risorse, ad avere beni, asset, non pezzi di carta. E quando investiamo dobbiamo puntare a questo. I ricchi giocano proprio questo gioco, il gioco del compro beni per tenerli per sempre. Non compro beni con l'obiettivo un domani di vendere e ottenere profitti. In un denaro che si svaluta. È una cosa stupida. Ovviamente tu mi dirai, sì, beh, questo è fattibile, io compro degli immobili, compro delle azioni, compro asset che mi portino qualcosa in tasca e che io possa utilizzare per generare un cash flow, quindi delle entrate, perché se io compro solo ma non ho poi delle entrate, cioè questi beni non mi producono delle entrate, come faccio? Beh, l'immobiliare è fattibile, è fattibile anche con tante altre risorse, però qui stiamo parlando di bitcoin e allora la domanda è ma come faccio a fare tutto questo con bitcoin? E ora te lo spiego. Prima di mostrarti però lo strumento che utilizzeremo per fare questa analisi, questo backtest e proiezione futura, strumento che ti lascio gratuitamente qua sotto nella descrizione del video, voglio spiegarti il contesto di questa strategia e quello che io definisco il gioco dei ricchi. Nel gioco della costruzione di ricchezza cosa devi fare? Devi prima di tutto capire, beh, le regole del gioco, no? È normale, qualsiasi gioco tu voglia giocare, se non conosci le regole, non puoi giocarlo. Beh, la maggior parte di persone là fuori sta giocando il gioco della ricchezza, sta giocando che lo voglia o no il gioco del denaro, ma non comprende le regole del gioco ed è il motivo che la maggior parte di persone fa fatica ad arrivare a fine mese. Quindi capire le regole del gioco significa capire che il sistema sistema su cui stiamo vivendo, il sistema anzi dentro cui stiamo vivendo è un sistema basato sul debito. Il denaro oggi non si chiama più denaro come 50-60 anni fa, ma si chiama debito. E la maggior parte di persone là fuori non sa neanche che quello che ha in tasca, il denaro che utilizza tutti i giorni, si chiama in realtà appunto debito, non sa di essere immerso nel sistema del debito. Perché? Perché non viene insegnato, dirai? Sì, non viene insegnato, ma oltre a non venire insegnato viene proprio nascosto. Ripeto, non è che non ne parlano semplicemente, no, te lo nascondono proprio e poi stanno lì a raccontare oh, c'è l'inflazione, è salita, faremo così, taglieremo un po' qua, il cugno fiscale, e tac, è lì, ma come mai sale tutto, come mai i prezzi e le cose salgono, sarà colpa di quello, sarà colpa dell'altro? stronzate, sono tutte stronzate. Come diceva Henry Ford, ti leggo la citazione precisa, se la gente capisse davvero il sistema bancario e monetario, ci sarebbe una rivoluzione prima dell'alba. Non domani, dopo domani, tra due giorni, tra una settimana, prima dell'alba. perché se le persone capissero veramente lo schifo che stanno facendo là fuori, con un sistema basato sul debito, dove tu non possiedi niente e utilizzi un pezzo di carta che è debito, se le persone lo capissero veramente, allora questo sistema crollerebbe in un secondo, perché è un sistema fraudolento. Quindi siamo in un sistema basato sul debito e questo è importante comprenderlo per capire poi i prossimi step che ti mostrerò tra poco. Ma lascia che te lo dica ancora una volta in un modo più semplice e chiaro possibile. I soldi che usi oggi sono creati in base alla domanda di prestiti. Ergo sono debito, non sono denaro e non valgono assolutamente un cazzo. Torniamo però a Bitcoin, torniamo al cuore di questo video, torniamo alla parte importante di questo video. Ho dovuto fare questa premessa, perché magari molti che guarderanno questo video non sanno dove ci troviamo, cioè il contesto dentro cui nasce Bitcoin, il contesto dentro cui dovremo muoverci. Quindi ho fatto un piccolo specchietto apposta per capire questa parte qui. Ora veniamo proprio alla domanda che mi viene fatta. Cioè quando stè venderà i suoi Bitcoin? Lasciando da parte la parte speculativa, che chi mi segue qua sul canale lo sa, io ho una parte di holding e una parte speculativa. La parte speculativa di Bitcoin, altcoin e così via, ci gioco con l'obiettivo di accumulare denaro che rinvesto nei momenti propizi per aumentare costantemente la mia quantità di Bitcoin. Quindi tralasciata questa parte, quando Stefano venderà i suoi Bitcoin, la risposta è mai. Non lo farò, a meno che non succeda qualcosa di estremo. Finché questo gioco andrà avanti, io non venderò i miei Bitcoin. Perché ricordati, l'obiettivo non è accumulare denaro, ma l'obiettivo è accumulare beni e mantenerli sul lungo termine. Acquisti beni, li mantieni nel lungo termine, questi aumentano di valore e quindi ti preservano la tua ricchezza dalla svalutazione, dall'inflazione e dal debito e contemporaneamente si apprezzano e ti generano magari ricchezza. Se proprio vuoi vivere con gli investimenti e quindi arrivare a un punto e dire vabbè, ma io voglio monetizzarli, voglio prendere i frutti di questi investimenti, allora puoi usare a tuo favore che cosa? Il debito. E tra poco ci arriviamo. Perché se investi in immobili, gli affitti e hai un cash flow, hai un ritorno di cassa, un flusso di cassa. Se investi in azioni hai dividendi. Quindi c'è sempre, nella maggior parte di asset, un ritorno. Però su l'oro, per esempio, o Bitcoin, beh, questo ritorno non c'è. Non è che se compri Bitcoin ti ritornano dei Bitcoin. No, non funziona così, non hai un flusso di cassa. Quindi si può utilizzare il debito per evitare di vendere i propri Bitcoin e quindi monetizzare sfruttando il glitch nel sistema, sfruttando il sistema per ottenere denaro free e con free intendo tax free, gratuito. Cosa significa? Significa che puoi evitare di vendere i tuoi Bitcoin, tenerli perché si apprezzano nel tempo di valore e contemporaneamente usare il sistema del debito, cioè utilizzare i tuoi Bitcoin a garanzia per ottenere denaro che puoi usare come ti pare e su quel denaro non ci paghi un centesimo di tasse. Non importa quanto le alzeranno. Lascia che facciano quello che vogliono. Tu userai il sistema che loro hanno creato per fotterli. Cioè, credi veramente che i ricchi accumulino risorse, beni e semplicemente le vendano per ottenere il pezzettino di carta? Cioè, tu credi che le risorse che ottengano non le utilizzino in leva sfruttando il sistema del debito per ottenere pezzi di carta che poi possono usare così per fare le loro cose, ma stanno ben attenti, stanno ben accorti dal dare via le proprie risorse. Le cercano di tenere il più possibile perché se comprendi il gioco che stiamo vivendo, dove il denaro si svaluta, i beni e le materie che possiedi tenderanno a crescere di valore. E se tu le vendi, hai perso il treno. Ora entriamo nel vivo del nostro video, entriamo nel vivo di tutto ciò che ti ho promesso, che ti avrei mostrato. Te lo sto per mostrare adesso, però un ultimo minuto ancora perché devo farti le giuste premesse, perché sono importantissimi, perché ciò che ti sto per mostrare è estremamente delicato e va affrontato con massima serietà. Quello che sto per mostrarti ovviamente non è da intendersi come consiglio finanziario, questo lo sai già. Dovrai fare tutte le tue analisi ed è per questo che ti lascerò i documenti e tutto ciò che ti serve per poter imparare e valutare da te. Ero titubante se fare o meno questo video, non sapevo se farlo veramente o meno, più che altro perché ho paura poiché le persone fraintendano e usino in modo sbagliato ciò che sto per mostrare, però cercherò di essere il più chiaro, il più chiaro possibile affinché ciò non avvenga e ti dico già mi raccomando sii responsabile, comprendi bene come funziona, analizza bene perché ti sto per mostrare qualcosa che la maggior parte di altre persone là fuori, se non tutte, quasi, non conosce, qualcosa che i ricchi utilizzano e che le persone in comuni non hanno neanche idea sia possibile. visto che gioca proprio sui prestiti che è un tema estremamente difficile, io ti mostro a scopo didattico quelle che sono le mie ricerche, quelle che sono i miei test sui miei conti, sul mio portafoglio, ma tu fai estrema, estrema, estrema attenzione, cautela e studia, mi raccomando, benissimo ciò che ti sto mostrando prima di cimentarti perché quando si parla di debiti, di prestiti, prendere in prestito denaro non è mai, mai veramente semplice, quindi devi essere molto, 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 molto attento, mi raccomando, si sta giocando con soldi reali, quindi devi fare estrema attenzione. Detto ciò, partiamo. La prima grande cosa da capire è il paradosso che i ciechi investitori là fuori oggi non riescono a vedere ed è un paradosso relativamente banale che si nasconde dietro calcoli banali, un paradosso però che rischia di far male nel lungo termine. Infatti, quante volte ti sarà capitato di vedere video del tipo quanti bitcoin mi servono per andare in pensione oppure ti basta un bitcoin per andare in pensione e tanti, tanti, tanti altri contenuti, video e cose di questo tipo. Questo perché? Perché si ipotizza che bitcoin raggiungerà un milione e se tu hai un bitcoin ad oggi, oggi, negli Stati Uniti ma più o meno anche in Italia siamo vicini con un milione e mezzo di dollari barra euro tendenzialmente dovresti riuscire ad andare in pensione quindi campare finché non crepi. Questo oggi però ed è qui il paradosso perché quando bitcoin sarà un milione e ascolta bene questa frase quando bitcoin sarà un milione io avrò generato un milione e mezzo se ho un bitcoin per esempio o qualche bitcoin in più avrò un milione un milione e mezzo per andare in pensione che è la cifra che serve attualmente ma quando bitcoin sarà un milione quella cifra lì probabilmente non basterà più perché se bitcoin raggiunge il milione ed ecco il paradosso vuol dire che nel percorso l'inflazione ha svalutato quel denaro mi seguo in questo ragionamento è molto importante da capire ed è il motivo per cui non serve assolutamente a nulla tutta questa retorica del quando raggiungerà qui quando raggiungerà lì se io vendo così ho abbastanza soldi ad andare in pensione qua e là sono tutte una marea di calcoli basati sul niente però come ho detto c'è un glitch un errore che possiamo sfruttare a nostro vantaggio cioè quello di tenere gli asset anziché venderli che è l'errore che sfruttano persone come Elon Musk per esempio con le azioni Tesla o Michael Saylor con le azioni di microstrategy e in rapporto proprio con bitcoin un glitch che ti sto per spiegare nel dettaglio ti sto per mostrare con calcoli alla mano nel dettaglio e che potrai appunto utilizzare anche tu ripeto con le dovute accortezze perché se il valore del denaro crolla il valore degli asset che tieni in portafoglio che cosa farà tenderà a crescere è matematico perché se oggi per comprare questo computer o questa camera mi servono x soldi se domani quel denaro si svaluta probabilmente questi stessi oggetti mi costeranno probabilmente di più in rapporto oppure l'oro oppure bitcoin oppure un immobile man mano che il valore del denaro decresce e che quindi cala il potere d'acquisto delle persone le risorse gli asset diventano sempre più costosi è un rapporto semplicissimo e ti basta vedere lo storico degli ultimi 50 anni per rendertene conto a questo punto cerchiamo di utilizzare questo sistema proprio su bitcoin però sì è vero diciamolo tutti dicono che non devi contrarre debiti anch'io dico di non contrarre debiti però un conto è contrarre debiti futili stupidi un conto è contrarre debiti conoscendo le regole del gioco e capendo quello che stiamo facendo questa è una differenza importantissima da tenere in considerazione qui non sto parlando del classico debito attenzione sto parlando di un debito utilizzato in modo intelligente e responsabile un debito utilizzato per evitare di vendere i miei asset perché nel momento in cui io vado a vendere i miei asset ho perso un bene che tende a valutarsi nel tempo a crescere di valore quindi dovrei fare molta attenzione quando decido di vendere un asset perché vendere un asset significa precludermi la possibilità in futuro di vedere il valore di quell'asset crescere e di conseguenza aumentare la mia ricchezza cioè ipotizzando di vendere dei miei bitcoin con un profitto di 100k se io oggi vendessi con un profitto di 100k qua in Italia dovrei pagare 26.000 euro di tasse probabilmente domani ne pagherò 42.000 perché hanno deciso di alzarle a 42% sti ladri ora non solo io sto precludendomi la possibilità di vedere quel bitcoin apprezzato in futuro vendendolo adesso ma sto anche dando quasi il 50% prima un terzo adesso quasi il 50% di ciò che sto guadagnando quindi sto rinunciando quasi al 50% della mia ricchezza vendendo quell'asset ed ecco perché diventa stupido farlo ed ecco perché investitori come Warren Buffett cercano di tenere il più possibile le azioni in portafoglio piuttosto che venderle a meno che non ci sia dall'altra parte un big gain un grande profitto che si può fare switchando quelle azioni là quei titoli lì quindi hai due opzioni la prima vendere i tuoi asset prenderti un paio di spicci che ti servono pochi o tanti che siano e pagarci le tasse sopra e quindi vederti decurtare la tua ricchezza e precluderti la possibilità di vederli apprezzarsi in futuro oppure usarli come collaterale per sfruttare il debito a tuo favore senza vendere i tuoi asset prendere soldi tax free su cui tu non pagherai le tasse ma che potrai utilizzare queste sono le due scelte ora che abbiamo capito qual è il sistema monetario come funziona abbiamo capito che c'è una via per utilizzare bitcoin in modo da ottenere un flusso di cassa senza doverci pagare le tasse sopra passiamo allo step 3 cioè vedere nella pratica come funziona e per farlo dobbiamo capire due aspetti principali di questo asset questo lavoro tu lo puoi fare con loro puoi farlo con qualsiasi cosa noi lo faremo con bitcoin quindi dobbiamo capire che cosa il passato di bitcoin e il futuro di bitcoin queste due cose ovviamente il futuro non lo si può predire non lo si può conoscere saremmo tutti miliardari ma studiando il passato si può creare una proiezione di massima per il futuro ripeto di massima ciò che sarà domani non lo si sa e non lo si saprà mai non sai neanche se ti svegli domani quindi di che vogliamo parlare però si può giocare sulle probabilità basandoci sui dati passati quindi partiamo dal passato di bitcoin e visto che dobbiamo parlare di passato che cosa facciamo ti vado a mostrare subito il passato di bitcoin dobbiamo capire quanto ha reso quest'asset cioè come si è comportato quest'asset rispetto gli asset tradizionali e quindi ti vado subito a condividere lo schermo eccoci qua quello che tu stai vedendo qui è il tasso di crescita di bitcoin annualizzato composto per gli ultimi 14 anni come vedi negli ultimi 14 anni il tasso di crescita di bitcoin comparato a quello dell'oro e dell'SP500 è stato molto 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 potente 134% il primo anno più 89% il secondo 2% il terzo 53 53 48 42 ad oggi al 14esimo anno siamo a un 159% di tasso annualizzato su questo BlackRock ha creato un report che ho riportato in un video te lo lascio linkato qua sotto che ha stimato che negli ultimi 10 anni il tasso medio di crescita di bitcoin è stato questo qui il 100% ci torniamo però tra pochissimo prima ti voglio mostrare altri dati perché abbiamo parlato di tasso di crescita ok sì bitcoin è cresciuto tanto però la volatilità è un asset volatile vero i ricchi le persone che vogliono investire cercano la volatilità perché la volatilità attenzione va verso l'alto così come va verso il basso quindi un asset estremamente volatile è un asset che ti permette di fare soldi indipendentemente che tu voglia specularci sopra o mantenerlo ti farà fare soldi e a proposito di volatilità ci sono un paio di questioni che dovremmo andare ad analizzare perché bitcoin è volatile sì ma non così tanto come ci fanno credere ora ti mostro un documento di fidelity fidelity proprio quella fidelity lì fidelity investment il secondo più grande asset manager al mondo allora se tu vai sul sito di fidelity in particolare la sezione fidelity digital asset punto com troverai un sacco un sacco di report incredibili su bitcoin ricordo fidelity fa report e lavora su bitcoin dal 2014 quindi c'è veramente una mole di dati impressionanti dati che là fuori non trovi perché non te lo dicono cosa ti dicono ti spiegano questa roba qui no ti spiegano le solite cazzatine ora ti faccio velocemente vedere questo questo report te lo lascio poi qua sotto qua si va a parlare di che cosa si va a parlare della volatilità è un report abbastanza lungo è molto dettagliato però io voglio fartelo vedere nei suoi principali punti primo un anno di volatilità di bitcoin rispetto agli asset tradizionali come vediamo tu guardi questo grafico dici cazzo è tanto volatile rispetto agli altri asset vero ma se vai a fare un po' di zoom out quindi vai a guardare molto meglio la situazione scoprirai che per esempio un'azienda come Netflix le azioni di Netflix tendono a essere più volatili sono queste qua in blu rispetto la volatilità di bitcoin nei 90 giorni in questo caso andando ancora avanti vediamo la volatilità dei magnifici 7 un anno di volatilità dei magnifici 7 quali sono sono le big tech apple microsoft google amazon meta nvidia tesla come puoi vedere bitcoin si piazza qua come volatilità sotto quindi è meno volatile di azioni come meta di nvidia di tesla è relativamente vicino ad amazon e poi abbiamo google microsoft apple questa è la volatilità di bitcoin attualmente e se andiamo a scavare un pochino di qua vedremo che rispetto tante altre azioni dell'sp500 circa se non sbaglio 92 eccolo qua espresso qua sopra 92 asset dell'sp500 hanno una volatilità maggiore di bitcoin quindi bitcoin non è così tanto volatile come si può credere poi qua c'è tutto il resto del report lo compara con oro lo compara con tante altre cose molto molto interessante man mano che cresce tende a stabilizzarsi la volatilità quindi si è un asset volatile ma ma dobbiamo fare molta attenzione a questi dati interpretiamo sempre i dati non stiamo al sentito dire concentriamoci sempre esclusivamente sui dati questi dati sono basati su che cosa su quello che si chiama lo sharp ratio cioè quando tu misuri la volatilità verso il basso e verso l'alto le vai a comparare il numero che viene fuori è lo sharp ratio cioè questo qua un rapporto che attualmente su bitcoin è dello 0,82% quindi molto basso rispetto a quello che si potrebbe pensare che va a misurare come ho detto la volatilità a ribasso e a rialzo va a creare un rapporto tra queste due e ci restituisce un numero questo numero vallo a paragonare con tanti altri asset e scoprirai che effettivamente bitcoin si difende molto bene la tua volatilità perché? perché come ho detto si ha una grande volatilità verso il basso ma anche una grande volatilità verso l'alto e allora andiamo a vedere storicamente che cosa ha reso bitcoin perché questo è quello che importa e soprattutto il suo ciclo di 4 anni in 4 anni come vediamo bitcoin ha una certa prevedibilità in un certo senso 3 anni questi qua sono due c'è quello prima che era ancora up 3 anni up 1 down 3 anni up 1 down 3 anni up 1 down e così via ci appartiamo di rendimenti folli ed ecco perché lo share ratio questo qui questo numerino qui è basso perché si è volatile sia dei drawdown grandi può arrivare magari al 70% però dall'altra parte gli up come vediamo qua sono estremamente alti più 300% più 155% più 1300% più 5400% qui stiamo parlando di una media che è volatile a ribasso ma anche a rialzo e di conseguenza un rapporto relativamente contenuto ora andiamo a vedere lo strumento che ti ho promesso come funziona su che cosa si è basato ed eccolo qua te lo condivido immediatamente su che cosa si basa questo sistema si basa sul semplicemente andare a prendere in prestito denaro utilizzando come garanzia il nostro bitcoin i nostri bitcoin ora sono partito dal 2011 2011 bitcoin costava 30 centesimi prima cosa ti condividerò tutti questi file li potrai utilizzare una cosa usa solo come ti ho scritto anche qua le celle azzurre per modificare i dati tutto il resto ha formule quindi se tocchi qua o qua si spacca tutto il file quindi mi raccomando modifica solo questa parte qua poi qua sotto ti lascerò poi questo video qui con la clip esatta nel momento in cui ti sto spiegando questi dati per capire dove mettere mano ti leggo la tabella come strutturata allora primo gennaio 2011 il prezzo di bitcoin era 30 centesimi ora se tu vai nel 2011 a comprare una certa quota qui ho messo 1000 dollari però facciamo finta di aver preso anche meno perché dipende che cosa vai a prendere cioè quanta fiducia poteva avere uno nel 2011 di comprare 1000 dollari di bitcoin a 30 centesimi cioè avere un holding di partenza di 3333 dollari questo è assunto che non verrà mai venduto quel bitcoin lì quei bitcoin lì anzi in questo caso ora ipotizziamo di averne comprati magari 1000 dollari oppure guarda facciamo così facciamo finta 100 dollari perché è un numero che è più vicino a noi eccolo qua io ho comprato 100 dollari di bitcoin nel 2011 il primo gennaio 2011 vuol dire che ho un holding di 333 bitcoin lo so è già così rapportato al prezzo di oggi è folle se non l'avessi mai venduto ora ipotizziamo che per i primi 4-5 anni quindi fino al quinto anno io ho semplicemente holdato il mio bitcoin non ho fatto assolutamente nulla non ho preso prestito non ho fatto niente il tasso di crescita del 2011 è stato a fine anno del 1150% quindi io ho messo in portafoglio 100 dollari bene nel 2012 ne avevo 1250 nel 2012 il tasso di crescita è stato del 272% quindi nel 2013 avevo in portafoglio 4650 dollari nel 2013 il tasso di crescita è stato del 5500% ricordi 3 anni up 1 down 3 anni up 1 down e così via così mi trovo nel 2014 260.000 dollari poi meno 76% tac arrivo a 62.000 dollari e così via fino al 2024 dove mi trovo in portafoglio la bellezza totale di 22 qui ho messo 2024 1 gennaio 2024 questi sono tutti i primi gennaio con i vari prezzi di bitcoin in quel momento che sono espressi qua siamo passati a 30 centesimi a 45.000 dollari e qualcosa 2024 stessa cosa viene rapportata qua c'è la formula con la crescita percentuale ti calco il portafoglio vuol dire che io dal 2011 al 2024 ho in portafoglio la bellezza di 22.851.751 dollari di controvalore in BTC quindi mi è 333 BTC cosa faccio a partire dal quinto anno supposto quindi avere un holding che comunque mi ha generato un po' di un po' di cassa quindi il quinto anno dopo il crollo quando ho in portafoglio 62k sono andato a prendere in prestito utilizzando come collaterale i miei Bitcoin e qua giustamente tu dirai sì cazzo però sono partito nel 2011 ho preso un botto di Bitcoin posso permettermi di farlo questa è ovviamente una proiezione del passato cioè ho fatto prima un backtest nel passato prima di iniziare io allora a fare i miei movimenti con il mio holding di Bitcoin oggi nel presente faremo tra poco una proiezione futura quindi capiamo cos'è stato capiamo come avrebbe funzionato questo tipo di lavoro nel passato per poi andare nel futuro quindi torniamo al nostro backtest ipotizzando di usare come collaterale i miei Bitcoin a partire dal 2015 per ottenere flusso di cassa come vedi qua sono stato estremamente conservativo cioè la gente perché si brucia perché va a fare con i collaterali 50% 70% degli LTV cioè una quantità di prestito presa a partire dalla risorsa che danno come garanzia folle 50-60% 70% cioè che cazzo è sta roba ti bruci quindi io qua sono stato estremamente conservativo andando a prendere una quota ridicola quindi parliamo di un 3% ora un 3% si traduce in un debito un prestito di 1000 dollari ci faccio poco io qua potrei anche scrivere magari un 5% allora sono 3000-4000 dipende poi da ognuno però io sono stato basso per farti vedere come qualcosina la si può tirar fuori ora andiamo nel nostro processo io ho chiesto 2015 il primo anno un 3% di prestito rispetto il mio holding ho preso 1800 dollari ovviamente qua non ho fatto il calcolo devo specificarlo delle commissioni che paghi cioè dei tassi di interesse che vai a pagare sul tuo prestito sono da calcolare sono rimasto più conservativo apposta perché poi a seconda di dove vai a prendere il prestito ovviamente ci sono delle commissioni da pagare alla fine di questo video ti do anche qualche soluzione per fare questo tipo di lavoro poi l'anno successivo bitcoin è salito quindi il valore del mio portafoglio è salito io sono andato a prendere un prestito leggermente più alto un 3.4% in modo che ho come vedi qua 3800 dollari di prestito con cui una parte chiudo il prestito precedente e con l'altra ci campo vivo spendo faccio quello che voglio ho assunto in questo video in questo documento una persona che vive tra virgolette avrà altre cose ovviamente però che utilizza il prestito via via più grande per andare a ripagare il prestito precedente quindi utilizzare i soldi del prestito per generare flusso di cassa come dico io free quindi non sto pagando con soldi che mi arrivano dalle attività verosimilmente se ho delle attività mi producono della ricchezza io utilizzo questa ricchezza per ripagare il mio debito semplicemente quindi non sto parlando di questo sto parlando per assurdo di uno che parte e inizia a generare denaro a partire da bitcoin cioè facendo una catena di prestiti ogni ramo di questo prestito va a ripagare il prestito precedente e ci dà un cash flow free quindi del nuovo denaro questo è il senso quindi è un gioco per assurdo però che può aver senso analizzare perché è divertente a scopo didattico poi l'anno successivo 2% quindi prendo 5000 ripago 3008 e ho 2000 liberi e così via come vedi sempre con cifre molto piccole fino a avere preso in prestito un totale di 30.000 dollari nel corso degli anni quindi di 30.000 dollari che sono sostanzialmente un cash flow free poi ovviamente se io qua sono stato più spinto e ho preso 1000 dollari allora qua iniziamo a parlare di un cash flow maggiore parliamo di un portafoglio da 228 milioni e parliamo di un cash flow di 304 k perché con quelle percentuali qui 3% e così via diventano 18.000 19.000 20.000 20.000 20.000 23.000 37.000 64.000 37.000 42.000 e così via quindi siamo andati a generare un cash flow gratuito gratuito tax free il 304 k ora abbiamo visto il backtest andiamo a vedere come funziona nel futuro per capire come funziona nel futuro che cosa devo fare io devo capire ovviamente dove potrebbe arrivare bitcoin sottolineando che le performance del passato non sono le performance che ci saranno anche in futuro ovviamente non possiamo mai e ripeto mai prevedere dove andrà il mercato però possiamo a livello probabilistico fare due conti due calcoli terremo conto di tre punti per fare questa nostra analisi tre punti che ci daranno in linea di massima uno specchio di quello che potrebbe essere il prezzo futuro di bitcoin l'inflazione la percentuale di mercato e la legge di mccalf partiamo proprio da quest'ultima e per analizzare questa andremo a guardare ancora una volta un report un report di fidelity prima di tutto ti vado a mostrare però la legge di mccalf che cos'è che cosa dice ed è una legge molto semplicemente che punta come vedi qua all'apprezzamento c'è la crescita di valore in base all'utilizzo detto in modo semplice qua su wikipedia leggiamo la legge mccalf afferma che l'utilità e il valore di una rete sono proporzionali al quadrato del numero degli utenti cosa significa ti riporto questo disegnino qua perché sicuramente è molto più semplice a capire se io ho due telefoni ipotizzano uno io ne uno tu io posso chiamare te e tu puoi chiamare me fine man mano che aggiungiamo telefoni però le combinazioni diventano estremamente più alte cioè se io aggiungo cinque telefoni io posso chiamare te tu puoi chiamare me ma tu puoi chiamare il tuo amico il tuo amico può chiamare te ma il tuo amico può chiamare me io posso chiamare il tuo amico e via via così quindi va ad aumentare come vediamo qua al quadrato del numero degli utenti l'utilità e il valore di quella rete a cosa ci serve a noi questa roba qui questa roba qui ci serve per capire l'utilità e il valore di bitcoin cioè la rete di bitcoin il valore di bitcoin cresce a pari passo o meglio al quadrato rispetto il numero degli utenti che lo utilizzano quindi se più utenti iniziano a utilizzare bitcoin di conseguenza la rete di bitcoin cresce l'usabilità di quella rete cresce al quadrato e di conseguenza cresce anche il valore di quella rete più viene utilizzata più il valore cresce semplicissimo andiamo a questo punto a vedere il documento di fidelity dove parla della legge di Metcalfe e parla di tanti altri aspetti interessanti anche in questo caso te lo lascio qua sotto allora valuing bitcoin tatatata vado a prenderti punti salienti qua ti faccio già vedere un'idea di quello che prevede fidelity ricordo fidelity prevede un target di bitcoin nel 2030 a un milione per unità quindi ogni bitcoin secondo fidelity nel 2030 varrà un milione ogni bitcoin secondo fidelity varrà nel 2040 un miliardo lo so è una cifra folle personalmente io vado molto più con i piedi per terra e infatti ho costruito la proiezione futura estremamente più bassa però capiamo il perché di queste affermazioni e non sono gli unici lo dicono anche blackrock wisdom tree e così via archinvest sono tutti orientati verso tali cifre noi cercheremo di comprendere utilizzando i tre punti che ti ho detto prima l'inflazione l'aggredibilità di mercato cioè la percentuale di mercato e appunto l'egge Metcalfe che stiamo vedendo adesso tornando qua secondo fidelity come si può vedere qui il valore di bitcoin questo qua il stock to flow model vede il prezzo di bitcoin raggiungere eccolo qua un milione verso il 2030 ad oggi siamo intorno ai 100k infatti 2023 2024 dovremmo essere in quest'area qua più o meno poi non è che questo modello non ne deve essere per forza preciso però andiamo avanti qua ti spiega tutto il backtest tutto quello che vuoi quelle sono state le crescite ogni anno e arriviamo alla nostra Metcalfe qua che cosa guarda il numero di users quindi il numero di utenti e di conseguenza il numero di connessioni guarda come crescono le connessioni rispetto al numero degli utenti quello che dicevamo se io ho due utenti la connessione è una me, te te e me ma è sempre una connessione se io ho 5 utenti le connessioni diventano 10 perché io, te e così via 25 utenti sono 300 connessioni 100 utenti sono 4950 connessioni e così via e quindi va ad aumentare che cosa? va ad aumentare ovviamente la curva di adozione attualmente su bitcoin siamo in quest'area qua come vedremo tra poco quindi non siamo ancora nella fase tra virgolette parabolica se vogliamo qui c'è la curva di adozione reale spiegata qui vediamo la curva dei telefoni cellulari contrapposto a bitcoin è la stessa cosa però in scala logaritmica cioè in scala percentuale come vediamo qua bitcoin è in giallo siamo in quest'area qua i cellulari siamo in blu stessa cosa di qua però in scala appunto come ho detto logaritmica cioè percentuale di crescita percentuale siamo ancora molto all'inizio questo è quello che Fidelity e Company guardano e il motivo per cui hanno deciso di tirar fuori etf e tutta un'altra serie di elementi ora qui siamo sul demand side bitcoin pricing model quindi un modello di bitcoin basato sulla domanda sulla crescita della domanda e vediamo su questo modello abbiamo dal 2022 al 2030 l'adozione dei cellulari e di internet come cresce in termini monetari ora vediamo qua il prezzo di bitcoin in verde attualmente questo è un report del 2021 ma se andiamo a vedere nel 2024 più o meno effettivamente ci siamo siamo a ridosso dei 100k quindi più o meno questo documento ci ha preso in un certo senso vediamo che cosa vediamo anche la proiezione nel tempo 2030 eccola qua questa è la proiezione che fa fidelity poi qui ci spiega il livello address quindi la crescita degli address e poi così via mi pare si e finisce così comunque ti lascio questo file qua sotto perché è molto molto interessante da analizzare capito questo passiamo al punto 2 cioè l'aggredibilità di mercato l'aggredibilità di mercato è un altro fattore chiave un altro fattore molto importante cosa vuol dire quanto è aggredibile un mercato beh quando io investo ipotizziamo di investire in una start up questa è una roba che nella Silicon Valley conoscono molto bene te la riporto qui se io voglio investire su una start up devo capire prima di tutto quali problemi che cosa risolve quella start up lì quindi in quale nicchia si va a posizionare e contemporaneamente devo capire anche il valore monetario di quella nicchia esempio nasce Paypal io sono un investitore un angel investor devo investire su Paypal all'inizio allora per investire su Paypal all'inizio devo capire dove si inserisce si inserisce nella nicchia dei pagamenti chi sono i colossi nella nicchia dei pagamenti sono Mastercard Visa American Express Maestro se vogliamo anche se più piccolo e così via no ci sono questo tipo di giganti di colossi vado a comprendere il numero di questi cioè in termini monetari il valore di questi vado a comprendere il valore anche dei competitor in realtà perché ok sono i pagamenti digitali ma dall'altra parte che cosa abbiamo abbiamo magari anche altri tipi di pagamenti quindi li inserisco guardo il volume del mercato e a quel punto dico è ragionevole che Paypal possa raggiungere che ne so l'1% di quel mercato lì quindi aggredire portare via l'1% da quel mercato lì e se così fosse quanto mi verrebbe in tasca? Semplicissimo questo è un ragionamento estremamente semplice che si fa per valutare le aziende uno dei ragionamenti in realtà per valutare le start up ora facciamo lo stesso identico ragionamento anche per Bitcoin anzi tra l'altro siamo proprio nel sistema dei pagamenti in realtà Bitcoin può essere visto da più punti di vista sistema dei pagamenti in primis però noi cerchiamo di analizzarlo dal punto di vista che ad oggi è più considerato quando si investe su Bitcoin cioè il tema della riserva di valore anche se non è nato per essere riserva di valore ma è nato per essere pagamento strumento di pagamento però molti oggi lo guardano come uno strumento essendo scarso per come è concepito per proteggere il proprio portafoglio quindi funzionare proprio da riserva di valore detto ciò quindi dobbiamo capire che cosa? Beh il volume il mercato in termini monetari del sistema della riserva di valore cioè capiamo il peso della riserva di valore e quindi apriamo un file e andiamo a scrivere due righe per capire appunto il sistema della riserva di valore allora che cosa c'è dentro la riserva di valore? Ci possiamo mettere l'oro per esempio il mercato dell'immobiliare ci possiamo mettere automobili possiamo metterci vini insomma fai i collezionabili l'arte ci sono veramente un sacco di cose anzi per alcuni potremmo mettere anche il cash il denaro perché molti utilizzano il denaro come riserva di valore so che è stupido ma lo fanno quindi abbiamo diverse categorie se dovessimo quantificarle vai a farti i conti però potremmo quantificarle intorno a 900 trillions quindi 900 trillions è una capitalizzazione che possiamo dare di questa roba qui giusto per avere un'idea diamo un'occhiata alla capitalizzazione di bitcoin attuale eccolo qua parliamo di 1 trillions 1.3 trillions noi teniamoci per buono quello che abbiamo detto che è più semplice facciamo per comodità bitcoin è un trilione questa è la capitalizzazione attuale di mercato di bitcoin e questa una stima della capitalizzazione di mercato totale delle riserve di valore ora facciamo due calcoli se bitcoin riuscisse a catturare che ne so un 2% di questa roba qua significherebbe il 2% di 900 trillions significherebbe 18 trilioni di conseguenza significherebbe da un trilione attuale di capitalizzazione di mercato a 18 trilioni quindi io dico da adesso andare a catturare un 2% in più rispetto a quello che già ha significherebbe passare a 18 trilioni di capitalizzazione quindi significa un per 10 abbondante se invece riuscisse a prendere che ne so un 5% significherebbe non più 18 trilioni ma 45 trilioni quindi rispetto ad esso non sarebbe più un 10 per ma sarebbe un 40 per e se riuscisse a prendere per esempio un 10% e poi non vado più avanti perché se no diventa poco plausibile ma già su un 2 5% è fattibilissimo stiamo su un 10% significherebbe un 90 trilioni e quindi qui avremmo questo ma se tu fai lo so che è un calcolo sbagliato però lo facciamo perché è più semplice così se no bisognerebbe calcolare anche l'inflazione tutta una serie di fattori facciamolo per assurdo molto semplice capitalizzazione di mercato 90 oggi la capitalizzazione è un trilione con un valore medio di 60k andiamo a fare 60k per 90 e significa ripeto lo so che non è il calcolo preciso significa 5 milioni circa per bitcoin quindi ripeto 60k per 90 si traduce in 5 milioni per bitcoin per valuta per moneta quindi abbiamo visto il report di fidelity un milione entro il 2030 o meglio nel 2030 un billion un miliardo 2040 quindi una previsione estremamente alta passiamo ad una previsione più prudenziale fatta su questi dati ipotizzando un 10% di acquisizione del mercato in realtà andiamo più bassi perché non è un 10% probabilmente che riuscirà ad aggredire bisogna vedere in quanto tempo però tendenzialmente secondo me un 2 barra 5% è fattibile ipotizzando che fosse un 2% significherebbe un per 18 e teniamoci per comodità un per 10 quindi arrotondiamo per estremamente difetto un per 10 significherebbe 600k per moneta per bitcoin un 5% significherebbe un per 40 c'è un per 40 per 60k significa 2 milioni e mezzo circa cioè la metà di un 10% il 5% quindi spariamo i 2 milioni e mezzo per bitcoin questo era il secondo sistema di valutazione ora però passiamo al terzo quello che a me piace di più in assoluto cioè che è quello basato sull'inflazione sul tasso di inflazione passato e il come si è evoluto questo tasso di inflazione nel futuro quindi andiamo ad aprire di nuovo il nostro documento per farlo vedremo che cosa vedremo il grafico M2 che cos'è l'M2 è sostanzialmente la massa monetaria sul mercato la massa monetaria sul mercato questo parte dal 1980 esatto confermo 1980 fino a 2024 vediamo l'andamento della massa monetaria vediamo 2020 pandemia che c'è stato un pandemonio veramente ma lato economico non di altro tipo ha sparato sulla liquidità vediamo che se vogliamo cresce secondo queste trendline e poi qua c'è stata la curva parabolica crescendo esponenzialmente quindi la massa monetaria cresce perché guardo la massa monetaria quando parlo di inflazione l'ho detto più volte l'inflazione non è il numerino che ci comunicano l'inflazione è vedere quanta massa monetaria arriva sul mercato perché la quantità di denaro sul mercato implica la svalutazione del denaro circolante di conseguenza più denaro c'è sul mercato più prezzi tendono ad aumentare nel tempo quindi cala il potere d'acquisto di conseguenza quella è l'inflazione se vuoi guardare l'inflazione guarda questo dato qui guarda come si sta muovendo la massa monetaria sul mercato più aumenta più cresce maggiore maggiore sarà il tasso di inflazione e andando a guardare ciò che è stato fino ad oggi andiamo a guardare a questo punto ciò che qua parliamo di miliardi di dollari andiamo a vedere ciò che probabilmente potrebbe essere e non lo dico io lo dice il governo stesso quindi andiamo a vedere sul sito cbo del gov punto gov andiamo a vedere quello che è stato il movimento del flusso della massa di denaro come è evoluta nel tempo e quale si aspettano possa essere il futuro qui c'è un altro documento report enorme ti lascio tutto qua sotto nel dettaglio così puoi studiartelo ti faccio vedere prima guerra mondiale caduta grande depressione seconda guerra mondiale crollo stabilizzazione la grande recessione pandemia e la pandemia ha portato su la proiezione parte da qua dal 2020 al 2040 vede raggiungere un livello questo qua è percentuale del più 200% quindi uno stampaggio di denaro tale dal livello attuale che andrà su di un più 200% di conseguenza se tu mi porti ad aumentare la massa monetaria al 200% dove arriveranno i prezzi delle cose e poi qua sotto ci sono tutti i dettagli ti spiega il perché il per come hanno fatto questa proiezione i dati i numeri e tutto quello che ti serve per poter analizzare questa cosa qui quello che voglio però portarti come concetto è che questi tre scenari quindi che abbiamo visto ci mostrano una potenzialità per bitcoin estremamente elevata quindi molto molto interessante vedere questo tipo di analisi piuttosto che le classiche pattern testa spalle cazzate varie e questo è quello che bisogna guardare cioè bisogna guardare una proiezione basata su numeri e elementi realmente interessanti realmente funzionali fondamentali dico io proprio come questi qua che ti ho mostrato ora che abbiamo visto questa roba qui quindi ci siamo fatti un'idea di quale possa essere il prezzo futuro di bitcoin andiamo di nuovo nel nostro file e vediamo come potrebbe funzionare in futuro la nostra calcolatrice cioè il nostro non vendo bitcoin e genero cash flow gratuito ho creato in questo caso vedrai qua sotto una calcolatrice editabile e una di backup magari ti faccio anche un backtest di backup se ti può interessare ma qua nel backtest c'è poco da modificare quindi potrei anche lasciarlo così se non la quantità di denaro che se vuoi provare o se avessi messo 1000 se avessi messo 10 ma del se avessi ora non ci frega niente quello che ci interessa invece è qua e quindi ti ho dato anche un file di backup così tu puoi recuperare andiamo alla nostra calcolatrice la nostra calcolatrice ho preso dal 2024 al 2043 di nuovo dipende quanto hai in portafoglio ho assunto che abbiamo 100.000 dollari di valore di bitcoin in portafoglio questo a partire dal primo gennaio 2024 poi se qua vuoi farlo da oggi tu metterai qua 60k e qua andrai a mettere il giorno da cui vuoi far partire la tua simulazione qua mi dice loading di partenza esattamente come quella del backtest però aggiornata da qui al futuro ora ovviamente questa sezione qua l'ho messa totalmente a caso o meglio l'ho messa con un criterio secondo me mio cioè sensato per me ma sono numeri a caso quindi stiamo creando una simulazione relativamente nel vuoto questo perché come ho detto in futuro nessuno può sapere dove andranno i prezzi ho messo per esempio 2024 che chiuderà con un 100% bitcoin quindi ipotizzando se siamo partiti da un 42k arriviamo a un 80k ci può stare come vedi qua questo qui ti dà il prezzo a inizio 2025 quindi dopo che si è chiuso l'anno ho messo 84k non ho modificato qua ricordo si può modificare solo le parti azzurre mi raccomando poi ho ipotizzato 2025 in totale un più 50% perché perché statisticamente abbiamo detto bitcoin si muove di un 100% ma come ho già detto io più volte per me il 2025 sarà un anno recessivo quindi mi sono tenuto un 50% più o meno che significa fine anno fine 2025 poter raggiungere potenzialmente al massimo un 126k per unità come vedi alla fine dopo 20 anni quindi nel 2043 parliamo di un bitcoin che ha raggiunto i 4 milioni per valuta non tantissimo più alto di quelle che sono le previsioni che abbiamo visto fino adesso ora per Fidelity 2030 bitcoin era un milione nel nostro caso sta a 300k quindi siamo stati molto più bassi rispetto a Fidelity cioè abbiamo raggiunto il milione qua nel 2034 35 più avanti comunque ripeto questi sono numeri molto molto buttati lì quello che a noi interessa è questo cioè il prestito a partire da questa roba qui del come andrà anche qui ho assunto i classici 3 anni 3 anni 3 anni e poi un anno di down rispetto a ciò che è stato il passato gli anni di down sono sempre andati a abbassarsi quindi mi aspetto magari un meno 50 meno 35 un 95 meno 15 meno 10 man mano che si va avanti aumenta la massa monetaria aumenta quindi la capitalizzazione diventa più difficile buttare giù il prezzo ma anche farlo crescere quindi si va pian piano ad assottigliare e come vedi ho creato un pattern dove si va ad assottigliare anche che cosa anche la crescita cioè stiamo parlando un 35% contro magari il 100% 200% le cifre fogli che abbiamo visto fino adesso ipotizzando di avere due bitcoin e mezzo in portafoglio ti faccio un esempio con un portafoglio che potrebbe essere mio però poi tu puoi andare a modulare qua avendo due bitcoin e mezzo in portafoglio aspetti come al solito uguali nuovo 4 5 anni il quinto anno prendi il prestito hai in portafoglio circa 300k prendi in prestito che cosa un 5% come vedi cerco di stare sempre basso ipotizzando di prendere un 5% significa avere 15k poi di nuovo 5% 15k stesso principio prendo il 30 prendo 30 l'anno dopo pago il debito di prima e ho di nuovo free cash flow quindi denaro gratuito andando a via via ogni volta aumentare il prestito mi vedi aumenta le size dei prestiti perché ripaghi quelli precedenti ogni volta quindi ogni ciclo vai a togliere il prestito precedente lo vai a estinguere e hai solo quello poi futuro cioè c'è quello che hai contratto e il cash flow che ho ottenuto su queste cifre qua ora se tu avessi un portafoglio più piccolo che ne so facciamo finta 10k c'è un portafoglio da 10k significa uno 0,2 btc che ci può stare può essere magari più vicino alle persone comuni ovviamente un 5% si traduce in 1500 cioè sono cifre molto più piccole che però significa un free cash flow di 27k e 3 quindi dipende ancora una volta e tra l'altro scusami un portafoglio di 1.2 milione tra 20 anni questo per avere un'idea per come funziona io ti lascio il documento questo file qua per intero tu pasticciaci nel caso in cui rompessi qualcosa qui come ti ho detto ti lascio questo file qua che è esattamente il file di backup quindi identico tu lo puoi riduplicare e poi rimodificare quindi molto molto comodo hai tutto qua sotto fai le tue analisi divertiti pasticcia e divertiti come meglio credi ciò che mi premeva però passarti era proprio il processo secondo cui mi sono mosso per fare questo tipo di analisi e mostrarti come nel passato ma anche nel futuro potrebbe funzionare la strategia del non vendere bitcoin e generare interessi a partire da essi ora ti dico personalmente ciò che faccio personalmente nella mia strategia del non vendere bitcoin non c'è il cash flow da usare per spese spesucce e cazzate varie no quello che faccio io è utilizzare il cash flow che mi genera un prestito su bitcoin ma così come su loro così come su tutto ciò che quelli che sono i miei beni i miei asset li utilizzo come collaterale per ottenere un cash flow quel cash flow non lo uso per le spesucce ma lo uso per creare entrate che si auto ripaghino quindi il mio processo il mio ciclo è un pochino diverso non è un ciclo come ti ho mostrato qua dello spendere cioè io metto btc come garanzia btc come garanzia mi genera un cash flow cioè prendo dei prestiti qui metto prest che sta per prestiti questi prestiti li spendo per comprarmi la macchina pagare le bollette queste cose qua no non è quello che faccio io io uso questo prestito quindi questo debito affinché io possa acquisire che cosa altri asset che mi producano altro cash flow in questo modo il mio cash flow che vado a produrre va a ripagare qua il mio debito e io continuo ad avere una macchina che stampa denaro cioè mi creo una macchina che stampa denaro sostanzialmente a partire dai miei asset che uso come garanzia questo è lo strumento che utilizzo io personalmente sui miei asset e su bitcoin e ora qui la domanda delle domande la domanda delle domande sì ok tutto bello tutto fighissimo fantastico una bellissima analisi di un'ora e mezza però come faccio io a dare in garanzia i miei bitcoin per ottenere un prestito allora ci sono diverse soluzioni una di queste è per esempio l'utilizzo di nexo o ledn o anche uoder ci sono tantissime soluzioni sul mercato il problema di queste soluzioni e che noi stiamo comunque affidando i nostri bitcoin a terzi e anche qui ovviamente affidare bitcoin a terzi significa affidarci esporci a che cosa a exchange o piattaforme che quindi custodiscono per le nostre bitcoin il che si potrebbe tradurre per noi come un problema cioè se fallisce io perdo i miei bitcoin quindi molta attenzione personalmente uso nexo da tantissimi anni mi sono sempre trovato molto bene anche a depositare e tenere la sopra cifre un po' più cospicue continuo a utilizzarla ovviamente non tengo tutti i miei bitcoin lì perché questo gioco non lo faccio con tutti i miei bitcoin questo gioco lo faccio con una parte che mi vada a generare ciò che mi interessa ecco perché io dico io utilizzo questo sistema per non spesucce e cazzate varie anche se con nexo tu puoi utilizzare le tue cripti i tuoi bitcoin e pagare con la carta di credito una carta in moneta debito e credito che ti permette di pagare dovunque tu voglia nel caso del credito utilizzando come collaterale ti dà subito del credito che puoi usare ripaghi in euro il tuo prestito e voilà hai fatto quindi sì c'è questa possibilità qua sì puoi anche prendere in prestito euro da farti spedire come bonifico sul tuo conto da utilizzare come vuoi magari se ti interessa ti faccio un tutorial al scrimolo qua sotto dedicato a nexo come funziona lato prestiti quindi come fare prestiti tutte queste robe qui ne avevo già parlato in passato ti lascio un video però magari entriamo più nel dettaglio e ti mostro nella pratica che cosa faccio io però detto ciò ciò che è importante da considerare è che comunque non ci affidiamo a terzi ecco perché io utilizzo questa strategia semplicemente quando ne ho necessità quindi quando voglio utilizzare i miei bitcoin che ricordo ciò che io investo non è tutto il mio denaro ciò che io ho investito su bitcoin e così via sono cifre che io sono disposto a perdere quindi tendenzialmente questa roba qui la posso tenere lì non mi importa se va giù perché io campo vivo con altro quelle che abbiamo visto noi sono delle ipotesi per assurdo che ci permettono di usare in leva i nostri asset qualora volessimo monetizzarli io perché tengo i miei bitcoin perché non me ne frega niente se aumentano le tasse perché non ho intenzione di venderli semplicemente è perché non ho la necessità di farlo ma qualora avessi la necessità piuttosto che venderli uso questo sistema qui di conseguenza quando se dovrò utilizzarlo le volte che l'ho utilizzato per esempio l'ho fatto in leva per acquistare altri bitcoin però questo è un altro paio di maniche che cosa posso fare utilizzare questo sistema prendere la liquidità che mi serve utilizzarla e poi ripagarmi il mio debito e riprelevarmi i miei bitcoin semplicemente cioè usarli on demand usarli sul momento e non necessariamente andare a versare tutto quindi anche qui ripeto deve stare ad ognuno di noi nonostante Nexo sia una piattaforma estremamente solida tutto quello che vogliamo però i rischi ci sono sempre è giusto parlarne è giusto evidenziarli c'è anche da dire che molto probabilmente molto presto questo sistema qui quindi sistema del prestito sarà probabilmente fattibile anche là fuori sul mercato tradizionale quindi sulle banche tradizionali ad oggi tu puoi chiedere un prestito offrendo come garanzia degli immobili dei terreni dell'oro potenzialmente o delle azioni probabilmente molto presto visto che bitcoin ormai è diventato un asset dopo che BlackRock e Compagnia Bella si sono immessi in mezzo è diventato un asset è estremamente probabile che tu molto presto possa utilizzare anche bitcoin come garanzia semplicemente in banca o in altre strutture finanziarie questo è un futuro secondo me nell'arco di un 4-5 anni massimo c'è una probabilità estremamente elevata che ciò sia possibile esistono anche soluzioni in finanza decentralizzata però ad oggi non ne parlo semplicemente perché hanno lo stesso grado di rischio della finanza centralizzata anzi molte di queste sono scam molti di questi protocolli falliscono e sono falliti nonostante fossero in DeFi quindi obiettivamente ha forse più senso in questo momento affidarsi ad un Cefai per fare quindi Nexo Uodler piuttosto che Ledne e così via piuttosto che andare in DeFi a fare questo tipo di lavoro oppure il prestito P2P bitcoin è nato come P2P quindi potenzialmente si può fare anche con altre persone quindi ti ho mostrato come evitare la tassazione su bitcoin ti ho mostrato in realtà come giovare al massimo degli asset in generale ti ho mostrato come cambiare la tua visione e trasformarla in una visione di voglio acquisire beni piuttosto che acquisire beni con l'obiettivo di venderli e guadagnare perché quello che guadagni si brucia il gioco il gioco della ricchezza non fine a se stessa ma quella che viene chiamata dai ricchi dai miliardari piuttosto che la ricchezza generazionale è una ricchezza che punta ad acquisire asset detenerli e utilizzarli in leva con lo strumento del debito qualora fosse necessario ora hai tutte le informazioni necessarie hai visto come se mosso bitcoin hai uno strumento per fare un backtest su bitcoin uno strumento per fare delle previsioni e strutturare il tuo piano su bitcoin non è un piano pensionistico del tipo vendo quando arriverà qui e mi godo i soldi no è un piano che va a costruire ripeto ricchezza generazionale una roba del genere nessuno te la mostra probabilmente almeno qua in italia probabilmente nessuno ti mostrerà queste cose qui perché sono cose estremamente delicate ed estremamente però importanti da comprendere quindi detieniti i tuoi bitcoin detieniti i tuoi asset cambia la tua prospettiva comprendi le regole del gioco e sul lungo termine sfrutta al massimo il sistema del debito che oggi conosci per generare ancora più entrate per aumentare la tua ricchezza e quella poi in futuro della tua famiglia ti ringrazio per essere stato qui con me un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video e ci vediamo